E ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi siamo su Resident Evil 3, siamo all'ottavo episodio se non ricordo male E siamo alla torre dell'orologio qui sul campanile Perché nell'ultimo episodio siamo morti malissimo con il Nemesis che ci ha attaccato Quindi non avendo cure mediche, non avendo spray, ne erbe o qualcos'altro comunque per curarci Siamo un po' nella cacchetta Quindi ora dobbiamo vedere un po' cosa fare più che altro per cercare di difenderci al meglio Ed evitare magari i colpi più che altro perché non so bene come si fa ma cercheremo di farlo Non abbiamo niente nel baulo quindi direi andiamo direttamente Ad affrontarlo sto Nemesis Io direi però facciamo una cosa Una cosa abbastanza... Ok non posso caricare Me l'ero dimenticato Facciamo una cosa Equipaggiamoci il lanciamine Che secondo me è più forte del lanciagranate E direi di andare ad affrontare il Nemesis Probabilmente questa parte la farò più di una volta Perché sicuramente morirò malissimo Magari farò vedere solo la prima volta in cui morirò Per le altre le taglio fino a quando non sarò riuscito a superarla Vedremo magari di farla... Ecco già c'è la storia Perfetto Direi di farvi sorbire la storia Non avrebbe c'è la storia Il filmato non ha senso Quindi saltiamolo Non lo posso saltare Ok lo posso saltare Perfetto Signor Nemesis Noi non siamo mai stati d'accordo Io lo so che Lei è molto innamorato di me Però Giustamente qua Siamo un po' messi male E dunque dunque Il problema è che lui C'ha sto lanciagranazzi Là quel che cazzo che è E infatti Mi do ricordare i tasti ragazzi Hanno messo Cazzo No E devo ricordarmi come si salta E come si schivano i colpi Ragazzi Probabilmente la farò più di una volta A sta parte Ragazzi Ce l'abbiamo fatta Senza Senza cure mediche Ce l'abbiamo fatta Siamo riusciti a farcela Allora Non ho registrato Sfortunatamente però Delle registrazioni precedenti Mi sono dimenticato a registrare Porca puttana L'affanculo Allora Vi spiego un po' cosa è successo Ho caricato una partita Una partita precedente Ho provato magari ad arrivare qui Col kit medico Però se vi ricordate Eravamo messi male Quindi l'ho dovuto riutilizzare Perché i ragni mi hanno fregato Comunque Ci ho provato Ho cercato di attaccarlo Spammando Granate congelanti Anzi Prima ho fatto si Che scaricasse il lanciarazzi Poi ho spammato Dopo che ha buttato il lanciarazzi Ho spammato granate Congelanti Dopodichè cercavo di colpirlo Il prima Cioè il più possibile Con Con le granate Normali E cercavo di non farmi colpire Quindi in qualsiasi modo Cerco di farcela Scappando E l'unica soluzione è questa Quando non si hanno Cure mediche E quindi automaticamente Siete fregati L'unica soluzione è questa Spammare granate Congelanti e granate Cercare di evitare i colpi suoi Ok ragazzi Ci ritroviamo con Carlos Quindi Vediamo un attimo Cosa abbiamo nel baule Perché effettivamente Non so Niente Perfetto Benissimo Io direi Questo di qua E no Che cazzo sto facendo Salviamo la partita Perché Non vorrei ritrovarmi A ricombattere di nuovo Col nemesis Sfortunatamente Non ho Ho dimenticato Infatti qua Potete vedere La quarta partita Ho dimenticato Purtroppo di Attivare Di Avviare la registrazione Volevo portare Magari l'epicità Di questo scontro Però Sfortunatamente È andata così Credetevi in parola Perché non so Come dimostrarvi Vabbè che comunque Ve l'ho dimostrato Metto magari qualche video Precedente Perché Ieri sera Sono stato tutta la notte A provare Che Ma che sono tutti Questi zombie qua Oh E ho provato Tutta la notte Sono passate tipo Ho cominciato alle 11 A registrare No alle 10 Sono arrivato fino all'1 A registrare Cercando di Sconfiggere il nemesis Non ci sono riuscito E quindi Automaticamente Così andrà Così è andata E pazienza Allora dunque Ora ci ritroviamo Con Carlos Vediamo un po' Come Non c'è niente qua No eh Giustamente Non c'è niente Abbiamo la Hall Abbastanza distrutta La Hall Quello che è E E direi Così Senza spara Senza sprecare colpi Perché non abbiamo Nemmeno le munizioni Quindi La situazione È abbastanza Madonna Evitiamoli Evitiamoli va Ok Qualcosa di stealth Dunque 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 Ora dovremmo avere Qua La campana E con Jill Non siamo riusciti a spostare Ma sicuramente Con lui Sì Infatti È così Perfetto Ancora zombie Sento Infatti Facciamo una cosa Lì Facciamo avvicinare Vediamo se Ecco Perfetto Questi di qua Non posso evitarli Almeno quello di là Sì Infatti Questo lì Quello di là Però no C'è niente No Non abbiamo niente Nemmeno verbe È Perfetto Direi di Continuare Senza Sprecare colpi Allora Vediamo cosa c'è qua Cos'è Non dirmi Sento lo zombie Di sottofondo Cazzo Me l'erò dimenticato Aspetta Ciccio Bell Cazzo Eh vabbè Ma chi fa Vuoi morire Eh mori male No Ce ne sono due Come si Siamo 86% No Siamo pure feriti Perfetto Eh È tenuto in ordine Ma che cosa Ma sempre rosse Ma da dire È normale Dico io Ma perché Con se rosse Che palle Eh Niente Ci non mi date niente No Completamente Perfetto Andiamo Ok Salva partita Il nastro Abbiamo dimenticato Di posarlo Vabbè Lo possiamo posare Anche qua Non è un problema Ah Oh perfetto C'è uno spray Lì E direi Di portarcelo Perché effettivamente Cominciamo Ok Allora Non Non vorrei salvare La partita Adesso Anche perché Non è che ci sia Cioè Sì Abbiamo fatto Un bel po' di strada Comunque Vabbè Andiamo avanti Eventualmente Vedremo Non c'è niente In questa stanza Quindi direi Proseguire Tranquillamente Qui che abbiamo Zombie No No Perfetto Ok Colpi della pistola Perfetto E a questo punto Dato che non abbiamo Nulla Prendiamoci la pistola Per il momento E Vediamo Cos'è Vuoi prendere Mangianastri Ma prendiamolo Tanto se ha fame Se li mangia Le battute Squallide Vediamo Cosa c'è qua Niente No eh Va bene Un'erba blu Io direi Lasciamola un attimo Perché sinceramente Non mi serve In questo momento Comando vocale Vuoi premere il microfono Inserisci La tua voce E siamo Un attimo qua Un registratore portatile Su cui ho registrato La Diagnosi Di un paziente Ok Quindi usiamolo Ok Non abbiamo zombie Dentro l'ascensore Stavo dicendo L'armadio Però vabbè Dettagli Proseguiamo E quindi Che piano vuoi visitare Allora Io direi Proviamo Non lo so S3 Vediamo S3 E poi andiamo Il 3P Terzo piano C'è niente Qui Non mi sembra Esserci nulla C'è nessuno Qua no Ti prego Non Mi sa che forse Abbiamo sbagliato piano Può essere C'è niente No Pensavo che tutte le cave fossero morte Chi sei Cosa pensi di fare Ma che è questo Qualche volta è semplice Dimenticare la lealtà Come quel traditore C'è dell'erba Lì intanto Quello con i capelli Grigi E il brutto muso Non pensavo Che avrebbe osato Spararmi Quel traditore Merda Come sei morto male Figlio Ma sei brutto Un agguato Speriamo che ci ha lasciato qualcosa Almeno delle munizioni No niente Inchia completamente Ma prendergli la pistola I colpi No Penso che siano tutte uguali No Cioè non è che Vabbè Intanto ci prendiamo le erbe Raga Che ci servono Ci servono assolutamente C'era pure quella rossa Lì fuori Io non vorrei unirle In questo momento Però Vabbè Per ora le stiamo Lasciamole così Eventualmente Prendiamo quelle rosse E le uniamo Qua che cosa c'è Micchia Cos'è quello Prendere chip base Sarebbe Esaminiamo come tutto L'ecipiente base Usato per creare l'ecipiente Necessario alla produzione del vaccino Ok Benissimo Qua che cosa c'è Manuale di istruzioni mediche Ok Servizio medico di Umbrella Divisione Nord America Douglas Rover In caso si desideri attivare Il sintetizzatore Per coltivare il vaccino Si è pregati Di eseguire le seguenti Procedura Perché? Ah la seguente procedura Fornire energia sufficiente al sistema Porre la base chimica nel dispositivo Quando il dispositivo è pronto Potete iniziare a mescolare il vaccino Per farlo dovete usare le 5 leve Questo permetterà ai due indicatori Di aumentare o diminuire O diminuire Sistemando le leve In modo da bloccare i due indicatori nel mezzo Si darà inizio alla procedura automatica Di creazione del vaccino Perfetto Allora E Vediamo Manchi la corrente Vediamo Situato vicino alla vasca Reginatore Si No vabbè Ma chi minchia me l'ha fatto fare Aspetta però Io ho acceso qua Prodotti che la base media Può essere posizionata qui E io non ci abbiamo Ah ok Si Voglio usare il sintetizzatore E Proviamo l'uno Deve essere metà e metà Quindi Proviamo il terzo Proviamo sotto Vediamo Ah No Troppo Ok Che culo Ce l'abbiamo fatta Perfetto Facile facile Raga E quindi che fa Abbiamo già il vaccino Possiamo andare No E ci piente Quindi penso che dovremmo unirla Qualcos'altro E Dov'è L'ha portato vera Che non vorrei che sti così Lo sapevo Lo sapevo Io scappo Se Che sto pensando a voi Ma per me potete andare a fare in culo Non c'era niente tanto Speriamo che non ci sia Ciccio bello Tu mi hai detto che non mi hai lasciato niente Quindi Oh Sbloccati Qua dentro Ah minchia Hai visto Bisogna controllare tutto Raga Bisogna controllare tutto Quindi vediamo un attimo Ehm no No Qui da questo lato non c'è niente Qui nemmeno E qui nemmeno Quindi possiamo andare Di Ok Possiamo direi Qual era il terzo piano mi pare Sì Se non ricordo male Quindi Che piano 3P Perfetto Non abbiamo zombie in vista Però lì abbiamo un esplosivo 401 Vediamo cosa c'è Nella stanza 401 Dai Merda Ehm Com'è Eh porca puttana Ok Cioè sprecare i colpi così Non mi piace raga Non mi piace per niente Ehm Allora Sembra che qualcosa È stata messa qui Il corpo di un dottore Sta tenendo un talloncino I numeri stampati Sul talloncino Sono 104 Ok Dobbiamo ricordare 104 104 Ok Dunque dunque Non c'è più niente Qui dentro E allora che ci sono venuto A fare solo per il talloncino Ebbabbè Ok Usciamo Andiamo nell'altra stanza È chiusa Il cartello dice 402 Che 104 E 402 Ok E mo Qua dentro che c'è Ok Tata rumbo C'è un salvapartita Qua dentro Ditemi di sì Vi prego No Merda Liscio Eh baffanculo Allora aspetta Perché È inutile È inutile Combattere così Eh Raga Siamo messi Malissimo Questo è morto Ok Ehm C'è più niente Una fotografia Chiave infermeria Vediamo Esame Siamo arancioni Allora sembra essere una chiave dell'infermeria Sulla target c'è scritto Ok Abbiamo la chiave della 402 Perfetto Foto D Gli zombie camminano Ok C'è scritto gli effetti del T-Virus sul retro Perfetto Eh Non c'è più niente Delle creature sconosciute sono immerse in formalina Va bene Qua Credo non ci sia più niente Vediamo da questo lato No Niente Per vedere fuori Perfetto Ok Ehm Allora Possiamo andarci Ne abbiamo la 402 Direi che possiamo Andare Dov'era qua Sì No 402 Ok Questa chiave ero inutile Vuoi lasciarla? Sì Speriamo non ci siano Altri serpenti Là quel cazzo che erano Aspetta C'è niente? No No Perfetto No Che cos'è? Cos'è sto cosa? Aspetta Montagna di Arkle E quindi che dobbiamo fare? Dobbiamo spostare sti cosi? Ah Ecco All'angolo Ho capito Perfetto Vediamo Vediamo quell'angolo là Intanto Sembra il più Plausibile Ma di questo lato ci sono Ah ok Quindi dobbiamo provarli tutte Bob Bob Allora Vediamo in questo di qua Speriamo che funziona Che vada Ecco E quindi dobbiamo uscire adesso Dobbiamo uscire Se no Non ritorno al punto di partenza Quel coso E ma ora Qual è la Vabbè C'è bisogno di spostarli così Le cose Cioè dai Non è che non credo sia tanto pesante Speriamo che Eh vabbè Ma allora minchia Boo E niente Allora quello di là All'angolo a sinistra Che palle Ragazzi ho scoperto Non so se per la playstation C'era Questa possibilità Però Effettivamente ho scoperto Una cosa che È utile Anche perché I caricamenti delle porte Se voi vedete Si prendono un bel po' Di tempo No Però ho scoperto Che c'è un Il tasto O meglio Io uso un tasto L1 Nel joystick Però non so se effettivamente È lo stesso o meno Comunque c'è un tasto Che permette di Evitare il caricamento Delle porte Che ora vi farò vedere Come avete già visto Secondo me Anche prima Allora Chiusa una serratura A combinazione Prima cifra E qual era il numero Ora aspetta 104 Se non ricordo male Si Perfetto Perfettissimo Ok Allora quindi abbiamo finito No Base vaccino Vediamo un attimo Che cosa ci dice Deve essere mista Con l'eccipiente Per creare il bacio Ah e noi l'abbiamo Quindi Perfetto Possiamo tornare Dalla nostra agilla Anche se Come avete visto Nelle curiosità Adesso che cosa c'è C'è il nostro caro amico Merda Ma io me ne vado Se che sto pensando a voi Come cazzo Ho fatto a morire Come cazzo Ho fatto a morire Cerchiamo di evitare Di farci colpire E E mo vediamo Che succede Ok Uniamo intanto Perfetto Intanto abbiamo Ok Fucile Scappiamo Il più Si 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 dai Tranquil Non mi farò colpire Da voi Invertebrati Di merda Perfetto Ok Non mi seguono Fortunatamente Direi di Andare Come dicevo poco fa Minchia Ok Questo è fatto fuori Ah tutte e due Perfetto Due in un colpo solo Benissimo Mi è piaciuta sta roba Perfetto Dicevo Si può evitare Di Il caricamento Dalle porte Di ascensore E tutto quello che Riguarda un caricamento Così Merda Eh però Aspetta Raga Non posso Sprecare i colpi Del fucile Così Porca puttana È andata A fanculo Va Come siamo messi A colpi Uno Mori Mori male Infame Ok Non c'è E c'era un Ho dimenticato Poco fa C'era un libro Qua E Non lo Non l'avevo preso Però adesso si Quindi Possiamo anche andarci Perché non è Effettivamente Non ha In teoria si C'è il senso lo ha Però Facciamo una cosa Salviamo la partita Perché non si sa mai E ci vediamo dopo Ok Possiamo anche andare E direi Qua non c'è niente No No Vediamo Una bomba orologeria Benissimo Quindi dobbiamo correre E direi di sì Bombe ovunque Bombe ovunque Corri Carlos Corri E sappiamo già Chi è L'artefice Di tutto questo Quel traditore Di Nicolai Però Nicolai Parlava Eh Nicolai Quel tizio Di colore Parlava anche Di qualcun altro Ma di chi parlava Questo è il dilemma Merda Merda Eh bab Te l'hai lasciate Restate qua belli A morire di fame Qua a mangiare A me Un frega un cazzo Qua che abbiamo No Eh levati dalle palle Eh no Eh vabbè Eh no Porca puttana Togliti dai coglioni Levatevi dalle palle Raga sappiamo bene Chi è questo Che ci segue Sul tetto E quindi Direi di scappare Sì sì La storia Vabbè Eh sono un cretino Però Allora aspetta Io non so se affrontarlo E fare un favore a Jill Oppure Morire male E non fare il favore a Jill Allora Vediamo un po' Come siamo messi Però va bene Ok Ma che sta facendo Così per capire Stiamo finendo i colpi Vabbè Finiamogli Addosso E poi eventualmente Corriamo Si rialza Oppure Non lo so Minchia Abbiamo finito i colpi Non si rialza Perfetto E direi di scappare Vediamo se qua c'è Qualcos'altro No niente Una cosa che ho dimenticato È di dirvi che Ho Giustamente Avendo caricato L'altra partita Ho sbagliato Nel momento in cui Scendo dalla torre Dell'orologio Incontro il Nemesis Ho sbagliato Ho messo Anziché Usare la corrente Ho usato la luce Quindi ho buttato giù il Nemesis E non mi ha dato la seconda parte Della Eagle Quindi abbiamo perso anche la Eagle Però l'ho provata Effettivamente Ma è una pistola Solo un po' più veloce Magari un pochino più forte Però nulla di particolare Va Anche se sarebbe stata utile Andiamo avanti con la storia E direi dopo Di salutarci Perché effettivamente Abbiamo fatto un bel po' Di minuti di registrazione Un po' Esatto Ok ritorniamo con la nostra bellissima Jill Ci ha dato i salvapartita Bene bene Non aspetta non ce li ha dati Erano quelli che avevamo noi Direi di posare questo Quello ce lo teniamo Questo non lo so effettivamente Perché intanto ci prendiamo la pistola E la nostra bellissima Eagle rimane qua Ok Dunque salviamo la partita e ci salutiamo raga Ok ragazzi Per questo video è tutto Se vi è piaciuto lasciate un mi piace Condividete con i vostri amici Fateli tornare a bambini Come sto tornando io Rifacendo questa serie Vorrei portare anche altri Resident Evil Vi ho lasciato qualche sondaggio nei video Rispondete e fatemi sapere la vostra Mi raccomando Non mancate al prossimo appuntamento Ciao 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 Ciao